Grazie a tutti. Il responsabile scientifico ha gestito sistemi di calcolo e rete all'INFN, ha partecipato alla creazione e allo sviluppo della rete e della ricerca italiana, quindi il consorzio Ungar, e attualmente coordinatore dell'attività di ricerca e sviluppo internazionale. Quindi il compito di introdurre in maniera un pochino più approfondita il progetto Terabit. Ecco la. EOGS come proponenti principali, seguiti da Gare, Cineca, come forti coabitatori o responsabili delle infrastrutture di ricerca di cui parliamo. È già stato detto tutto sui 41 milioni. Aggiungo che è partito il primo gennaio di quest'anno formalmente, dietro le richieste del Ministero, e la durata del progetto sarà 30 mesi. Un attimo di visione sulle tre infrastrutture attuali. Questo progetto non vuole creare nuove infrastrutture. Parte da infrastrutture che già adesso funzionano sul territorio, già hanno una grande quantità di utenti e servono alla comunità scientifica grande. e sono Garty come rete della trasmissione delle università e della ricerca e dell'istruzione diffusa su tutto il territorio nazionale. La ricerca, un piccolo dato, trasferisce per persona nella ricerca circa 100 volte di più di quanto trasferisce una persona normale, un normale abitante del nostro paese. Perché la ricerca usa da sempre molti più dati. Un trend che, come vedremo nei dettagli successivi, si è accelerato moltissimo negli ultimi anni. Price Italy è l'altra infrastruttura di ricerca di cui il progetto fa parte ed è un supercalcolatore, cioè una volta che realizziamo e prendiamo il dato, lo trasferiamo e lo dobbiamo analizzare per le necessità scientifiche e le necessità di ogni disciplina scientifica. Mano a mano ogni disciplina scientifica, grazie alla digitalizzazione costante, profonda, che nel nostro mondo sta cominciando ad avere sempre più vantaggi non solo a digitalizzare, ma ad analizzare i dati digitali. Price è una di queste super macchine che permettono, in modo molto compatto ma molto efficace, di digitalizzare. HPC BDAI è anche una distribuzione sul territorio nazionale di macchine sempre per fare questa analisi dei dati, soprattutto per la fisica delle alte energie, ma anche sempre di più per altre discipline. Una cosa che ci tengo ad aggiungere è che queste infrastrutture sono già collegate al mondo, già collegate fisicamente, nel senso che noi abbiamo un collegamento di infrastruttura, di trasmissione dati da GAR verso la rete della ricerca europea, finanziata dall'Europa e tutti gli altri paesi europei, in una strettissima collaborazione proprio per aiutare la ricerca a trasferire le informazioni. Price Italy è in realtà un'iniziativa europea, lì c'è l'acronimo, che è l'iniziativa precedente a Leonardo. Le macchine crescono ormai molto velocemente, ogni 3-4 anni al massimo si scala di un valore 10 della qualità della macchina. Adesso le nuove macchine sono EuroHPC nel centro nazionale, che diceva il professor Zoccoli prima. Quindi noi abbiamo queste grosse iniziative. HPCBiAD, anche lui, ha collegato a una rete nazionale di centri di calcolo per la specifica esigenza della fisica delle alte energie, ma poi, come diciamo, non solo. Brevemente, visione, oggi non si può più scindere il trasferimento del dato dalla sua analisi distribuita sul territorio e il trasferimento deve essere ad altissima velocità per le esigenze della ricerca. Quindi un sistema distribuito, iperconnesso e ibrido. Adesso diciamo che ci sono varie modalità di analizzare i dati. Qualcuno le chiama Cloud, qualcuno le chiama HPC. Adesso sono volutamente non tecnico, ma per spiegare che tutti gli strumenti che ci sono a disposizione oggi verranno usati opportunamente. Un dettaglio è che, naturalmente, anche a livello tecnico e di distribuzione e di autenticazione, di autorizzazione delle persone che potranno lavorare su questi dati, queste infrastrutture saranno collegate fra di loro in modo da garantire anche la massima sicurezza ai dati trattati. Gli obiettivi principali. La rete, se volete, è il punto primo. Avere una rete ad altissime prestazioni perché quella è la necessità della ricerca. Il secondo punto è innovare ulteriormente sempre questa necessità e modalità di calcolo, di analisi di questi dati. Voi avete visto come adesso modelli molto particolari, come quelli per l'analisi del linguaggio, CACPT, che tutti conoscono, piuttosto che altri modelli hanno rivoluzionato il modo in cui noi possiamo lavorare su questi dati. Queste macchine, questo tipo di approccio, è quello fondamentale per poter aprire questo mondo che si sta creando. E, naturalmente, innovare la modalità con cui offrire questo calcolo alla nostra ricerca. Brevemente, questo vuole solo dire che, da un punto di vista formale, il progetto è diviso in task o colonne in cui ogni infrastruttura ha un suo ambiente dedicato, ma tutte parlano fra di loro per garantire accesso a tutti. L'impatto previsto. Brevemente, il potenziamento delle infrastrutture è l'in primo impatto ovvio. Il secondo impatto, però, è l'integrazione sempre maggiore di queste infrastrutture a livello italiano, ma anche con l'Europa, perché siamo già collegati a livello europeo. Nuovi servizi avanzati. Abbiamo bisogno di innovare, di fare ricerca anche sulla modalità in cui noi riusciamo a analizzare questi dati. Oggi i dati si producono velocissimamente per il mare con i sensori, e lo vedremo adesso, per la rete con tutta una serie di informazioni che il digitale porta. Può esserci necessità di un calcolo locale, immediato, che dia già un'idea di quello che sta succedendo, ma che deve essere poi, mano a mano, sempre più sofisticato fino ad arrivare a macchine più alte. La federazione è un'modalità di riuscire a mettere insieme, a far parlare infrastrutture di ricerca di un certo tipo. Se volete il modello lo ha velocemente generalizzato in questo modo. Noi oggi possiamo fare calcolo sulla nostra scrivania, questo stesso calcolatore o il telefonino, ma abbiamo bisogno di un insieme fluido, ma crescente, di capacità, fino ad arrivare appunto al centro nazionale, dove un certo tipo di indagine scientifica trova la macchina di cui ha bisogno. Due note, due punti finali e poi ho concluso. Tutto questo richiede ovviamente i dati, che sembra ovvio, ma i dati devono essere presi, devono essere standardizzati, devono essere categorizzati. Non basta semplicemente digitalizzare un'immagine. Bisogna anche dire che cos'è quell'immagine, dove è stata fatta e così via. Secondo punto, le competenze, e questo è stato detto molto chiaramente, il capitale umano è essenziale per questi progetti. I progetti PNRR richiedono l'assunzione di un certo numero di persone a tempo determinato e di qui è fondamentale che i giovani partecipino per imparare qualcosa che sarà veramente il futuro in molti calvi. Chiudo qui e passerei adesso ai tre responsabili delle infrastrutture che brevemente descriveranno le infrastrutture. Grazie Mauro Campanella, l'ha anticipato lei, quindi invitiamo subito...